Il presidente di Alice Guido Grimalde è ospite di Quarta Repubblica, il popolo del trasporto non si è fermato mai, meritiamo più risorse dal Recovery Fund. Sarà firmato oggi da Draghi il DPCM che entrerà in vigore sabato prossimo 6 marzo, scuole chiuse nelle zone ad alto contagio. Cerimonia di battesimo per l'Eco Livorno, la DIA Emanuele Grimaldi e la terza gemella di Missioni Zero del gruppo, Matteo Salvini, un'opera importante per l'Italia. Si spacca il fronte UE sui vaccini, Austria e Danimarca annunciano che produrranno i sieri con Israele. Le immatricolazioni delle auto a febbraio scendono del 12,3%, quelle elettriche in controtendenza salgono del 141,8%.